buongiorno amici e amiche di FC Inter News e ben ritrovati con l'appuntamento delle dodici sul nostro canale YouTube da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter che lunedì lunedì sicuramente gioioso per per l'Inter ma soprattutto lunedì importante di vigilia per nuovo inizio dell'Inter in Champions League domani Inter Atletico Madrid andata degli ottavi di finale di Champions League diamo il via alla nuova settimana con il nostro Alessandro Cavacini ben ritrovato Alessandro ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti allora prima Alessandro di iniziare realmente a pensare a Inter Atletico Madrid anche se è già vigilia quindi eh siamo lì per riassaporare no l'emozione e l'atmosfera europea facciamo un po' il recap di un weekend assolutamente perfetto un weekend che è iniziato per l'Inter no venerdì con un sonoro 4 a 0 rifilato alla Sardinitana poi sabato arriva il pareggio della Juventus sul campo del Verona e ieri sera la giornata di sera si è conclusa con il pesante K.O. del Minan che è crollata 4 a 2 in casa del Monza Inter a più 9 sulla Juventus a più 11 sul Minan con una partita in meno questo lo dobbiamo sempre sempre ricordare quindi potenzialmente a più 12 e più 14 agli altre due squadre mancano soltanto 13 partite quindi 39 punti disponibili al netto della scaramanzia al netto del fatto che ovviamente nulla è fatto nulla è compiuto Alessandro possiamo dire che questo weekend qui no è stata può essere può essere sicuramente no la spinta verso la seconda stella cioè ora possiamo veramente parlare di fuga Inter in maniera veramente importante e decisiva e soprattutto è una risposta a tutti coloro che in queste settimane in questi mesi hanno cercato di non guardare in faccia la realtà perché come dice qualcuno no padre tempo poi agisce in silenzio sì è sicuramente sicuramente andata andata così poi noi conosciamo bene il calcio c'è sempre l'imponderabile può sempre accadere di tutto però eh non sempre eh il cortomuso va dalla parte tua non sempre rimpalla al novantesimo va dalla parte tua no e quindi mi riferisco chiaramente a Juventus e Milan con particolare eh appunto che faccia i bianconeri che non hanno non avendo le coppe eh come abbiamo detto anche la scorsa settimana si fa tanto parlare di una Juventus che è migliorata è una Juventus eh superiore un Juventus che comunque è lì in realtà rispetto all'anno scorso al metto della dei punti di penalizzazione poi ricevuti dalla Juventus nella passata stagione la Juventus oggi ha quattro punti in più cioè il bonus non coppe europee ha portato alla Juve quattro punti in più un po' pochi secondo me rispetto a quello che potevano essere soprattutto per il come no? Eh è arrivata la Juve alla quota punteggio che ha attualmente poi è chiaro che c'è l'Inter che eh sta distrutto sta demolendo il campionato ma come l'anno scorso dicevamo in maniera totalmente onesta è vero c'è un Napoli che va che va che è scappato via ma Inter, Juve e Milan comunque hanno fatto un campionato ampiamente deludente totalmente da bocciare e così dobbiamo dirlo adesso è vero c'è l'Inter che scappa che ha un ritmo indiavolato però le altre ripeto al di là poi dei punti cioè per quanto espresso io vi ricordo sì il Milan veniva da tante vittorie con il pari di Bologna eccetera eccetera però era la vittoria al novantesimo con l'Udinese tre a due la vittoria in casa col Napoli col Napoli che prende due legni cioè non erano queste vittorie così limpide che ti facciamo dire beh però il Milan in effetti può rientrare nella lotta a Scudetto la stessa cosa lo diciamo della Juventus addirittura la Juventus lo diciamo dalla giornata uno quindi su questo no siamo sempre stati sempre stati d'accordo finalmente io credo che ecco qualcuno si stia veramente rendendo conto della differenza tra l'Inter e le altre squadre in generale perché poi ci sono i numeri e qualcuno ha fatto finta di non vedere i numeri quando anche si analizzavano la classifica pensavano alla differenza reti alla produzione offensiva dell'Inter ci sono veramente tanti tanti dati oltre poi tutto associato anche alla miglior difesa non soltanto in Italia ma in Europa allora Alessandro io ti chiedo ora siamo la vigina no della di questo nuovo inizio in Champions League l'Inter Atletico Madrid una partita rognosa l'Atletico ha utilizzato no Simone un ampio turnover in campionato ha vinto 5 a 0 l'ultima partita di campionato e secondo me ci aspetta ecco una doppia sfida molto molto accesa e molto molto combattuta no? però ecco io ti faccio questa domanda questa situazione qui che ora si è creata no in campionato ora magari ecco l'Inter possiamo dirlo più rilassata dal punto di vista mentale in Zaglia ha deciso anche no di non far restare la squadra in ritiro questa sera quindi domani la squadra poi si ritroverà domani mattina farà la rifinitura e altro può giocare no per in ottica in ottica Champions League ora ora veramente l'Inter può concentrare quello che resta no della energia fisica mentale soprattutto in Champions League perché Alessandro la sensazione è che l'Inter possa arrivare veramente fino in fondo noi abbiamo sempre detto no l'obiettivo è la seconda stella l'obiettivo è la seconda stella ora che quell'obiettivo inizia veramente a vedersi perché lì ripeto annetto dalla scaramanzia di tutti i discorsi che ovviamente a qualcuno qualcuno non piaceranno perché ovviamente no non è ancora nulla fatto però avere questo distacco permette anche no alla squadra di essere più serena e soprattutto magari trasformare questa serenità in cariche dire ok il campionato è lì abbiamo fatto il nostro ora tutti i dritti in c'è più sì perché la sensazione è che questa squadra non voglia mollare nulla nulla allora guarda secondo me c'è stata una gestione esemplare nella stagione da parte di Inzaghi delle energie per quanto possibile no al netto di qualche problema quadrato praticamente non c'è mai avuto senza addirittura io anche qui apro il chiudo parentesi io non ho mai sentito un giocatore che salta degli impegni prima di operarsi tutt'altro gli salti dopo senza non gioca le ultime due partite prima di togliere la placca cioè che si sta preparando quadrato ha giocato no sul dolore quadrato ha giocato sul dolore però è evidente è evidente no che che c'è ci sono alcuni gestori di squadre che preferiscono avere un blocco e delle alternative chi è fuori è fuori e inzaghi mi sembra più uno che più che inclusivo è esclusivo nel senso voi siete i miei e chi non c'è non c'è e quindi è una cosa che sta rendendo anche magari avere alternative che sono alternative titolari che sono titolari però rispetto per esempio tornano in mente gli anni di di mancini no in cui è capitato due tre volte in cui l'inter già a febbraio era molto avanti però puntualmente negli ottavi di di finale di champions cadevano ricordo col via real ricordo col col valenza che mi sembrano col via real mi sembravano fossero i quarti col valenza una roba del genere e e l'inter che in campionato praticamente aveva chiuso il discorso poi poi proprio con due spagnole cadeva c'era più pesantezza a livello mentale invece io vedo in quest'inter non tanto rilassatezza nel senso vabbè ormai il campionato è lì io vedo proprio invece che il detto vincere aiuta a vincere quanto mai reale in quest'inter quindi non rinuncia da nulla io da quello che so dall'interno da quello che mi arriva loro veramente ma da prima non hanno mai disdegnato l'obiettivo champions anche se dall'esterno poteva sembrare oh super obiettivo resta e cambiato poi quello che di buono viene invece loro hanno sempre puntato a tutto e anche sulla Coppa Italia se ti ricordi io te lo dissi in un video incazzati neri che erano usciti col Bologna tant'è vero che la Supercoppa l'affrontano come fosse lo semifinale e finale di Champions distruggendo la Lazio e poi comunque eh battendo pure un Napoli che sarà messo tutta di tutti dietro no senza l'Inter è così e quindi questo questo spirito no mi piace perché rivede lo spirito degli ultimi tre quattro mesi dell'anno scorso diciamo dal porto in avanti anche in campionato quando poi arrivavano alcuni risultati comunque non tutte vittorie però vedevi l'Inter positiva propositiva convinta e più andava avanti e più cresceva e nell'Inter c'è anche in questa stagione stiamo vedendo un escalation ecco perché sono ottimista pure rispetto a a un Atletico Madrid che è un avversario sicuramente di grande valore ma io vedo un Inter veramente eh convinta convincente e che ha raggiunto uno status anche a livello europeo di di tutto rispetto può essere l'anno giusto cioè io a volte Alessandro mi fermo e pensano alle edizioni passate di Champions League quello che è successo l'anno scorso l'Inter io ho detto sempre abbiamo sofferto tanto no dagli ottavi in poi perché sono state veramente partite tirate magari ecco il doppio il doppio confronto con il Benfica come ci siamo arrivati al Milan poi fortunatamente è durato tutto il discorso soltanto sette minuti quindi siamo stati riusciti no a liberarci della dell'attenzione però io penso anche al 2010 no io non sentivo l'Inter eh favorita no eh per la vittoria da Champions League anche perché arrivavamo da anni comunque tutto sommato difficile in Europa e ricordato ricordato bene eh bene tu io invece qui ho la sensazione quest'anno Alessandro veramente di poterci arrivare alla finale di Champions League forse anche in virtù della finale per come l'hai giocata con Manchester City quindi io penso quell'Inter lì è migliorata tanto no rispetto a Istanbul quindi io dico se quell'Inter lì se l'hai giocata no così alla pari con Manchester City figurati questa Inter qui perché come dici tu è un Inter consapevole proprio delle proprie forze ed è un collettivo veramente veramente importante spesso no c'è l'Inter noi sappiamo Alessandro è fatta di grandi campioni costruiti anche grazie al lavoro di Zaghi ma nel momento in cui si sfidano squadre tra grandi campioni è netto del fatto che la Champions è una competizione a sé quindi gli episodi pesano come un macinio la sensazione è che l'Inter sia a livello collettivo a livello collettivo di gruppo al primo posto sì perché eh al di là della concorrenza che rispetto ad altre stagioni è calata e c'è mh a parte a parte Real Madrid e City che sono sempre lì le altre c'è il Barcellona non è il Barcellona degli ultimi anni anche l'anno scorso che poi viene eliminata dall'Inter ma era un Barcellona più convincente tant'è vero che vince il campionato e il Bayern Monaco sta attraversando un momento di di crisi lo stesso Bursia Dortmund insomma il Bayern Leverkusen che è stato milano in Bundesliga non è in Champions no e e quindi al contempo è salito il livello dell'Inter cioè c'è un Inter in in Europa fino al secondo anno di Conte al di là dei risultati perché poi magari l'Inter nel secondo anno di Conte avrebbe pure meritato il passaggio del turno ci sono state delle degli episodi particolari no però anche passando il turno tu non avevi quella contezza di un Inter europea c'è un Inter europea fino a quel punto e poi c'è un Inter che comincia con Inzaghi a livello europeo la prima partita Inter e Real Madrid l'Inter perde quella partita in maniera inopinata ma io ricordo quattro cinque occasioni clamorose per l'Inter che comunque al di là sempre come diciamo del risultato impone gioco Val Bernabeu partita inutile fine la classifica quello che volete impone il gioco pure in dieci rischia di andarla a pareggiare prima del 2 a 0 di Asensio e te lo porti te lo porti a Anfield e poi te lo porti tutto l'anno scorso perché quando si parla della finale di Istanbul secondo me si fa anche un torto a tutto quello che sta il percorso con il quale poi l'Inter arriva lì perché l'Inter arriva andando a pareggiare a Barcellona in una maniera incredibile vincendo col Barca nel momento di crisi e andando a Monaco di Baviera con le riserve perché partita inutile ma giocando ad altezza Bayern fa tutto un percorso poi il porto è semplice solo quando l'ha eliminato il Benfica diventa semplice solo quando l'ha eliminato quindi l'Inter nasce prima cioè l'Inter di Inzaghi è un'Inter europea passami questo termine a me non piace particolarmente e lo vedi in campionato e lo rivedi pari pari anche in Champions League. L'augurio è di rivederla subito in azione domani perché domani è una partita molto importante l'Inter ovviamente può sfruttare il fattore San Siro e andare a giocare ecco al Vanda metropolitana con un risultato sommato positivo potrebbe agevolare agevolare l'Inter anche in ottica ovviamente qualificazione. Io invito ovviamente tutti a seguire il sito www.fcinternews.it per vivere la vigilia di Inter Atletico Madrid. Noi ci vediamo questo proprio il giorno di 19 in diretta con il nostro salotto per vivere proprio a pieno la vigilia. Io ringrazio e saluto Alessandro Cavasini ci vediamo presto Alessandro. Grazie a te Raffaello un saluto a tutti. Ovviamente non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre Forza Inter.